Oggi un importante seminario sull'energia, ambiente e salute qui nel comune di Cortone. Di cosa si parlerà appunto? Si parlerà di tante cose, energia, ambiente, occupazione, salute, perché io sono un medico e sono tanti anni che mi occupo proprio di questi argomenti. Nello specifico il problema delle energie cosiddette rinnovabili o verdi, che con l'idea che non è tutto oro quel che riluce, non ci sono cose che non abbiano delle controindicazioni o delle ricadute negative. Allora dove sta il problema? Sta nel cercare di avere una produzione energetica che minimizzi i danni e le controindicazioni per la popolazione. Certamente i combustibili fossili vanno evitati e vanno eliminati, però noi dobbiamo partire da un dato numerico che è incontrovertibile. La Calabria produce attualmente il 180% in più dell'energia di cui ha bisogno. Quindi si tratta praticamente, noi produciamo di fatto tre e consumiamo uno. Ne vale l'idea di produrre energia perché poi la si esporti. Non funziona così. L'economia ci dice che l'energia va prodotta dove serve perché altrimenti, per esempio, nella produzione energetica, c'è una quota parte che si perde nel trasporto e il trasporto ha esso stesso per le opere necessarie di collegamento un impatto ambientale. Quindi una visione di tutela del territorio che fra l'altro è stata valorizzata ultimamente a febbraio dal nuovo articolo 9 della nostra Costituzione è un dato di fatto imprescindibile da cui partire perché proprio da quell'articolo e da quello che in quell'articolo è contenuto ci sono gli elementi, come dire, di tutela del territorio e anche quindi gli investimenti economici, lo sviluppo economico e occupazionale e poi infine, ma non certo da ultimo, la tutela della salute delle popolazioni. Sindaco, oggi un seminario su energia, ambiente e salute. Sì, problemi che riguardano strettamente il nostro territorio. Sappiamo e conosciamo bene i problemi legati all'ambiente del Comune di Grotonio. Siamo fuori da 70 anni di fabbriche per cui conosciamo quello che ci hanno lasciato. Sappiamo che le bonifiche devono essere ancora fatte. Così come sappiamo che le bonifiche che hanno approvato, ripeto, non saranno risolutive. Saranno delle vere e proprie messe in sicurezza permanente. Oggi col professore, col dottore Ferdinando Laghi parleremo di energia, parleremo soprattutto di questi impianti offshore che vogliono rifilarci a tutti i costi. Il nostro territorio è un territorio preda delle multinazionali e in questo noi diciamo chiaramente no. Le chiamano energie rinnovabili, ma quando questi impianti sono posizionati in un territorio che già ha subito una pressione ambientale notevole, bisogna rivedere un po' tutti i conti. Questo è il vero problema. In un territorio dove siamo circondati da centrali a più masse, da una turbogas che è una piccola centrale nucleare, da discariche di ogni tipo, da siti inquinati con scori industriali, allora si capisce bene che questa pressione ambientale è notevole. bisogna avere il coraggio di dire no, ma non perché siamo contrari alla produzione di energia da fonti rinnovabili, siamo contrari al fatto che si installino sempre nelle stesse parti.